Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Oggi daremo un piccolo aggiornamento su quando verrà accreditato il bonus sulla tredicesima di 154 euro. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Il bonus tredicesima da quasi 155 euro spetta in misura piena a tutti coloro che percepiscono la pensione minima. In pratica i pensionati che percepiscono un trattamento non superiore ai 6.695,91 euro annui avranno il diritto di ricevere un importo aggiuntivo che nel 2020 sarà di 154,94 euro. L'accredito di questo importo aggiuntivo è previsto ogni anno insieme al ratio di dicembre. Quindi coloro che percepiscono la pensione minima riceveranno anche l'accredito del bonus insieme all'assegno. Per chi ritira in posta sarà reso disponibile in questi giorni secondo il calendario anticipato comunicato dall'Inps. Per chi invece riceve l'accredito direttamente sul proprio conto corrente il giorno sarà il primo dicembre. L'importo si ridurrà progressivamente superata tale soglia di reddito fino ad azzerarsi per chi prende più di 6.850,85 euro annui di pensione. Il bonus in nessun caso viene erogato a chi è titolare di pensione di invalidità civile, assegno sociale e pensione di inabilità. Ricordiamo infine che il bonus 13esima pensioni 2020 spetta ai pensionati come abbiamo appena detto con redditi bassi ma titolari di prestazioni assistenziali, di pensione indiretta e infine di pensione di reversibilità. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione e un saluto a tutti! Grazie per la visione!